Ben trovati al TG Med Sport, la vigilia di Palermo Carpi, tutta nelle parole di Giuseppe Iachini, l'allenatore del Palermo che ancora una volta ha voluto ribadire come questa stagione sia stata straordinaria, non soltanto dal punto di vista tecnico ma anche per come è stato costruito questo successo, questa promozione in Serie A. Costruire una vittoria di un campionato è difficile, non è facile perché lo dice la storia del calcio, vincere non è mai facile per nessuno, però andare a costruire un'identità, un gruppo di valori che poi all'esterno dà un'impressione giusta che deve essere quella del lavoro serio, dell'onestà, della serietà, dell'andare in campo, sempre e comunque onorare la maglia e voler vincere le partite. Questo è un patrimonio che va al di là della mera vittoria del pareggio, che poi fa parte di episodi in certi momenti del campionato che succedono. Noi qui, a mio avviso, abbiamo costruito e vogliamo anche andare a costruire, volevamo anche costruire, nel rispetto dei nostri tifosi, quella stima, quella fiducia incondizionata che deriva da degli atteggiamenti, dei comportamenti. Il tifoso sa che quando gioca il Palermo, ha chiuso gli occhi, apre la televisione o viene allo stadio per vedere la partita, che farà oggi il Palermo? Il Palermo andrà in campo e darà tutto se stesso per vincere. Noi anche in casa, quando sblocchiamo la partita, raramente le squadre avversarie si aprono e vengono a giocare, difendono ancora, sperando di poter poi, quello che è successo con Lanciano è stato falese. Noi ancora andavamo ad attaccare, dopo l'1-0 abbiamo avuto occasioni ancora e abbiamo continuato a spingere per mentalità, per modo di atteggiamento tattico che ormai abbiamo acquisito e i nostri avversari erano lì che speravano in una ripartenza, in un contropiede, in un piazzato, di andare a recuperare la partita. C'è successo? Sì, è tipico quando vieni a Palermo, cioè vai a Palermo e ti metti nella testa di fare un certo tipo di partita perché sai che aspetti e riparti e di non prendere. Anche quando sblocchi la partita dici tranquilli, aspettiamo un attimo, tanto questi vengono perché devono venire, perché è la squadra loro che ormai ha acquisito quel loro modo di fare, il pubblico che tu non è che puoi stare lì a fare lo sparagnino, non fa parte del nostro e del mio modo di vedere, ecco qua che allora a un certo punto speri che possa succedere l'episodio che ti rimette in piedi la partita, ecco perché poi alla fine succede questo. Poi c'è da dire anche che abbia sbagliato qualche gol in più, che l'abbia sbagliato, mentre fuori casa è chiaro la squadra davanti al suo pubblico, qualcosina in più necessariamente deve andare a proporre. È una soddisfazione sicuramente per quanto riguarda i record perché poi io penso in qualsiasi, nella testa di qualsiasi uomo di sport, ma anche nella vita lavorativa, uno deve avere sempre dentro se stesso la voglia di superare, di alzare sempre l'asticella e arrivare sempre più lontano. Questo è normale, penso che sia, non è ambizione ma è coscienza di un lavoro che un professionista deve mettersi nella testa per raggiungere nuovi traguardi. È chiaro che in questa avventura di Palermo, considerando che a Chievo si era riuscito a raggiungere questi record, partendo dal 10 luglio, dal ritiro, 12 luglio quello che era, qui avendolo fatto con tre mesi e mezzo da fine settembre, penso, e con un lavoro ancora da andare ovviamente ad impostare, sicuramente ha un valore maggiore. Di Iachini, del fatto che non abbia voluto mollare di un centimetro neanche a promozione già raggiunta, abbiamo parlato con le responsabili delle produzioni sportive su TRM, Salvatore Geraci. Io ho fatto una domanda secondo cui il Palermo va oltre i recordi conquistati con questo suo atteggiamento e con questo suo comportamento di assoluta onestà e lui mi ha detto che sono i valori che abbiamo dentro, cioè noi vogliamo essere conosciuti per questo, cioè per il fatto che studiamo, andiamo in campo, non guardiamo in faccia a nessuno, vogliamo vincere e il campionato per noi finisce il 30 maggio, quindi nessuna concessione, dice ci dispiace anzi che non siamo riusciti a vincere con Lanciano perché era il giorno della festa, però lì abbiamo in effetti pagato qualcosina, però da questo momento in poi vogliamo ancora continuare a fare quello che abbiamo fatto sempre, ed è un atteggiamento morale e pratico di indubbio spessore, guarda mi fa un piacere immenso. Andiamo su trmweb.it nella sezione sport, andiamo per gli approfondimenti, partiamo dal basket, dalla DNC nazionale perché la nuova Aquila e Palermo è andata in finale playoff, ha superato a Cireale in gara 2 e dunque arriva alla finale per la promozione in DNB dove tra l'altro affronterà il Catanzaro che è stato l'avversario per tutta la regular season quest'anno, Catanzaro che ha battuto nella serie 2-0 il basket Mazzara, qui nella foto ovviamente il selfie celebrativo della squadra di coach Torriero dopo la vittoria. e poi c'è una bella notizia invece per il tennis palermitano perché è un successo importante di due tenniste davvero in erba, la palermitana Giulia Larocca è la tennista più brava d'Europa, a decretarlo la vittoria in doppio con Lisa Piccinetti insieme le due atlete hanno sconfitto la coppia Cappellini-Banzini aggiudicandosi il primo posto dell'ETA Under 14 di Pavia, è un torneo che ha visto quasi 32 tra ragazzi e ragazze da tutta Europa, si sono dati battaglia in singolo e in doppio per Giulia Larocca del TC2, una bellissima esperienza divertente e impegnativa allo stesso tempo, ha avuto modo, ha detto la Larocca, di confrontarmi con ragazzi davvero preparati. Dunque in bocca al lupo anche per il futuro della Larocca, tra l'altro nella settimana del torneo di Roma con tante italiane che pian piano sono uscite, è rimasta la Errani. Le immagini invece ci portano a parlare di flag football perché si è svolto il ball di ritorno del Girone Sud al velodromo Borsellino, Morrigans Palermo, Pink Elephants Catania e Black Matas di Messina, le Morrigans hanno chiuso questa prima fase di stagione al primo posto non solo del Girone Sud ma anche della classifica generale, partiranno così con più punti al prossimo appuntamento in programma dal 7 all'8 giugno a Grosseto nelle bolle finale di F3 dove le tre squadre del Girone Sud incontreranno quelle del Nord, sabato 7 di fatto le semifinali, possiamo definirle così, poi invece domenica 8 le finali per il quinto e sesto posto, terzo e quarto, ovviamente quella per l'assegnazione delle bolle nazionale, per il Girone Nord parteciperanno le Ranside di Trieste, le Panthers Parma e le Lynx Arona rispettivamente prima, seconda e terza. Domani appuntamento a partire dalle 14.30 su TRM13 con il processo in diretta per tutte le emozioni di Palermo Carpi e Ternana Trapani, non ci sono altre notizie, grazie per essere stati con noi e arrivederci. Affari Nord, valutazioni abbondanti, quasi eccessive. Piva, l'edilizia che ti vizia. Piva è cartongesso, sistema tintometrico, sistema cappotto, intonaci, guaina, ferramenta, idraulica, rivestimenti dal cemento alla pittura. A vostra disposizione personale specializzato vi aspetta per i vostri progetti, aperti anche a pranzo. Piva, l'edilizia che ti vizia. A Palermo, via Galileo Galilei 106, Rotonda Viale Lazio, infoline 091-784-6193. Presenti anche su Facebook, www.edilizia-piva.it. Attenzione, pubblicità! Puoi essere tu il prossimo testimonial della campagna pubblicitaria Dimensioni Arredi. Candidarsi è semplice. Realizza un simpatico filmato in coppia, anche con il telefonino. Cerca la coppia Mi Piace su Facebook e pubblicalo entro il 31 maggio. La coppia più votata diventerà protagonista della prossima pubblicità Dimensioni Arredi. Modalità e regolamento del casting su Facebook, la coppia Mi Piace o su www.dimensioniarredi.it. Abbondanti e generose, come le valutazioni di affari in oro.